Disordine ordinato, pianificato arbitrio, disordine ordinato, disumana, disordine ordinato, pianificato arbitrio, disordine ordinato, disordine ordinato, pianificato arbitrio, disordine ordinato, disumana, disordine ordinato, Che a fredda e che ognuno aiutare dovrà Attento, stai attento Ti vediamo uomo che devi Lennox, sentiamo uomo che gridi Aiuto! Adesso vorrei arrivare la mia fabbrica Come è scritto nel contratto Se Lennox è stroncato Sì, è giù Lennox, è giù Ma anche i miei tempi del mercato sono morti E perciò Mauler bisogna che tu scelta Da che 10 milioni di doma e che chiedi per le due azioni Che cosa? Il prezzo è scritto nel contratto, Lennox Lennox non è forse un contratto, questo? Già, è un contratto, come no? Ma per i tempi buoni E i dati cattivi sono scritti nel contratto Cosa me ne fa adesso? Su di me Come da un altro mondo Pare di senso Un sozio Oh sì Oh mio Dio, sì Sì, ho capito Ho compreso Ho capito I soldi Se l'hai intanto e capito Nessuno ti cercherà I soldi Portali Ai posti Ma sappi che io non sento nessun obbligo E la notte anzi Dormo bellissimo Perché ti do questo Forse perché mi piace il tuo rizzo Così innocente Non credo Alla puntata che si è proposto Basta, Giovanni Io vado Ma anche tu Ti pari Dovresti lasciare tutte queste cose Signor Mauler Questa è appena una goccia su un sasso erovente Non potete aiutarvi sul serio? Io apprezzo molto la vostra attività E vorrei che come voi Dio santo ce ne fossero Non potete aiutarvi su un sasso ero Carne in scatola Lardo di Maule del Graido Manzo di Grah Noi vendiamo carne in scatola Grossisti e acquistate carne in scatola Lardo di Maule del Graido Polpa di Manzo di Grah E chiamano voi! Lo chiamerete un uomo d'affari Ma noi vi diciamo, i cappelli neri noi vi diciamo che è un idiota E voi tutti che qui rincarate il posto della vita e vedete un inferno, l'esistenza degli uomini. Voi tutti siete dei miseri, meschini, idioti, nient'altro. Mandali via. Mandali via. Mandali via, mandali via, mi fanno paura. Paura! Mandali via. Vieni, 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 vieni. Guardali, sei tu che devi giarti così. No, 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 no. Mandali via, mi fanno paura. Tu dimostridi la malvacità dei poveri, Nauler. Io ti mostro la povertà dei poveri. No, 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 no. Io non ti mostro bene, no, 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 no. Compro, compro, compro cinquanta al prezzo del giorno. Comprano, compro, compro, compro. Mauler ha comprato, domani ci sarà lavoro. Grazie a tutti. Mauler e Kreidl chiudono, serrata le fabbriche di Mauler. E se tutto oscilla, se l'umano genere è in preda al caos, il denaro è un mezzo per migliorare qualcosa. Fosse solo anche per pochi. Opera immane, eretta da quando va in mente umana. Continuamente eretta, poiché sempre precipita ed innalzata incessantemente sui geniti. Necessariamente. Per strappare quanto è possibile a questo mondo avverso. Ma io sono di quelli a cui così non si dà aiuto. Se porti i soldi ai cappelli negli, ti riprenderanno con te questa vita mal sicura, senza appoggi. Giovanna, non fa per te, credimi. Pensano solo al denaro. E che bene così. E se i cappelli negli accetteranno il suo aiuto, facciamo pure. Io voglio stare insieme a quelli che aspettano davanti ai macelli finché le fabbriche riaprano. E mangiare quello che essi mangiano. E se gli sarà data neve, ebbene, neve. Non tra tre giorni! Non tra tre giorni oggi, 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 è come un ubriaco che abbia bracannato l'intera botte e ancora volvere, abitamente lecca fino all'ultima goccia. E i prezzi inizierono a salire, a salire, a salire, fino a quando Slip non gridò, CENTO! Mentre velocemente scormaio, FRIEDOM! 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 Pensate, per quando dovrete lasciare il mondo, non solo essere stati buoni, ma lasciare un mondo buono, un mondo buono, che insomma un mondo buono, ma ero dannosa, ha sottoperto, ed era utile, anche in maniera soffrire. Ma guarda, una cosa per voi, ora che in buono, non ho fatto niente. Di questo il mondo ha bisogno, che nulla sia parte. Mentre velocemente scormaio, FRIEDOM! FRIEDOM! Pensate, per quando dovrete lasciare il mondo, non solo essere stati buoni, ma lasciare un mondo buono, un mondo buono, un mondo buono.